Dopo quello che è successo a Domenica Inn con Gali, si è scatenato un po' un effetto domino, sia all'interno della Rai che fuori dalla Rai. Infatti, adesso vi leggerò il comunicato che hanno scritto i dipendenti della Rai, che si sono dissociati da quanto accaduto e da quanto scritto dall'amministratore delegato Roberto Sergio, e che aveva letto Maravegner durante Domenica Inn, ma vorrei parlare anche di quello che è accaduto fuori dagli studi della Rai. Infatti, in diverse città, tra cui Milano e Napoli, molte persone si sono radunate fuori dagli studi per protestare contro questa lettera dell'amministratore delegato della Rai, in cui sostanzialmente prendeva le parti di Israele, dimenticando e ignorando totalmente le quasi 30.000 vittime palestinesi che ci sono durante questo genocidio in corso in Palestina da parte di Israele. A proposito di questo, ci sono state appunto diverse manifestazioni contro la Rai, fuori dagli studi Rai, e sono state, diciamo, oppresse con la forza, tant'è che girano foto anche di ragazzi e ragazze con il viso completamente pieno di sangue. Io non ve le posso mettere qui perché sapete come funziona la piattaforma, però insomma vi basterà cercarle per trovarle su internet. In ogni caso è veramente pieno di articoli che raccontano questa cosa. Ma adesso vi leggo quello che hanno scritto i dipendenti della Rai contro, a questo punto, l'amministratore delegato. Siamo dipendenti della Rai. Le parole della D. Roberto Sergio, pronunciate per mezzo di Mara Venier nell'edizione Sanremese di Domenica Inn, segnano un punto di svolta inquietante tanto nel metodo quanto nel merito. Contestiamo l'utilizzo dei canali aziendali per trasmettere in forma di comunicati sia le idee personali dell'amministratore delegato che le sue vicinanze politiche o umane. Volendo escludere che con le proprie parole pensasse di farsi portavoce dei valori dell'azienda o peggio, dei suoi dipendenti. Crediamo che l'azienda concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo italiano debba avere la forza e la dignità di essere indipendente dagli umori di singoli individui e non pronta a inginocchiarsi alla diplomazia israeliana per poche frasi pronunciate da una manciata di artisti durante il Festival di Sanremo. Frasi che rivendichiamo. Nonostante sia condiviso l'orrore davanti alla morte della popolazione civile israeliana, ribadiamo la nostra estraneità alle posizioni del dottor Roberto Sergio. Contestiamo con forza l'unilateralità del comunicato che ha completamente omesso la sproporzione nel conflitto, le sofferenze della popolazione di Gaza e la violenza subita sistematicamente dai palestinesi nei territori occupati nella Cisgiordania. Stop al genocidio, cessate il fuoco ora. Dipendenti RAI per lo stop al genocidio, RAI per Gaza. Questo è quanto scritto nel comunicato stampa dai dipendenti della RAI che mi sembrano veramente molto risentiti per quello che è stato fatto, perché appunto è stato utilizzato un mezzo di televisione pubblica, quindi pagato da tutti noi, per diffondere idee personali di un'unica persona, facendola poi passare per una presa di posizione da parte di tutta l'azienda e di tutti i lavoratori che lavorano per quell'azienda. Insomma, come abbiamo visto, quello che ha fatto Gali ha scatenato, come dicevo, un effetto domino, sia nell'opinione pubblica, sia all'interno della RAI. Spero però che questa cosa non si spenga presto e che non venga dimenticato quello che sta succedendo, come invece è accaduto per altre questioni come quello che sta accadendo e che è accaduto in Siria o in Iran e così via. Insomma, continuiamo ad informarci e continuiamo soprattutto ad essere la voce di chi voce in questo momento purtroppo non può avere.